guarda un po', guarda un po', non vuole lasciar casa io a Marte stavo preso te, siamo spaventati tutti a Marte, a Marte, a Marte dove stavo prima? si, si, si vedete voi tutti hai visto? poi ti mando il video dei cani hai fatto giù, no giù, quei 5 setter che hanno liberato dal fuoco della baracca dal fuoco no l'acqua, si, si ve lo sentono, va bello, va bello però, non mi dicevo quei però, è vero, è vero no, non mi dicevo, va bene mi dicevo ma noi di un po' di più si parte bene no, scopendo stanno portando la barab�era mi dicevo la portita, te l'ho mi dicevo Lettite a Marte Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.